La chioscheria di Mascioni, che sovrasta lo splendido lago di Campotosto, non deve chiudere. Così la pensano i cittadini del piccolo comune del lago, che hanno dato vita a un sit-in sul posto, ma non solo. Si è lanciata anche una petizione online su change.org, che sta raccogliendo già tantissime adesioni, anche da parte di varie associazioni di motociclisti e ciclisti, che vedono in quel posto, cari aperto e battenti, nonostante le problematiche, con coraggio, un punto di riferimento. I cittadini stanno protestando con vemenza nei confronti del comune, che vuole far demolire la chioscheria. Il chioschetto di legno offre un punto di ristoro molto importante per i turisti e per i visitatori, che possono godere dello splendido panorama del lago di Campotosto, nell'area verde allestita con tavolini all'aperto. Il comune di Campotosto, per tornare fatti, ha emesso un'ordinanza di demolizione per difetto delle necessarie autorizzazioni e requisiti di legge. Il ricorso al TAR, rappresentato dai proprietari della chioscheria, è stato rigiuttato. Con i giudici amministrativi, che hanno validato dunque l'ordinanza sindacale. I carabinieri così si sono presentati sul posto per dare esecuzione all'ordinanza, ma i cittadini si oppongono e stanno con i proprietari. Anche perché non dimenticano il coraggio dei proprietari, appunto, di aver riaperto quel posto, nonostante le macerie tutte attorno, nonostante le varie difficoltà, nonostante lo spopolamento di questi comuni colpiti dal doppio terremoto.